Alla fine i lavori di ripulitura delle gallerie del Gran Sasso, il commissario straordinario Corrado Gisonni li ha stoppati momentaneamente a causa delle acque torbide che si erano determinate per i lavori che avevano alterato di fatto le analisi condotte dalla Gran Sasso Acqua. L'azienda in via precauzionale aveva deciso di interrompere l'erogazione idrica in alcune zone dell'Aquilano ad est e nella valle su Bequana, in una giornata convulsa nella quale alla fine pure l'azione di intermediazione del sindaco Biondi è stata importante. La GSA, diretta dall'avvocato Alessandro Piccinini, aveva fatto presente che nonostante le richieste i lavori non si erano fermati e per cui le acque non avevano più gli standard giusti per arrivare nelle case degli aquilani. In serata la svolta con il commissario Gisonni che in una lunga nota ha pure evidenziato come nel versante aquilano abbiano trovato delle criticità con sedimenti probabilmente inerti sul fondo del canale di drenaggio delle acque potabili, ma poi anche una sorta di richiamo alla Gran Sasso che invita a predisporre una strategia gestionale appropriata a gestire un sistema idrico così delicato. Da parte della GSA nessuna polemica, io devo salvaguardare il territorio, spiega Piccinini. Dice nel pezzo di chiusura che la cosa più importante è garantire sia l'erogazione dell'acqua e sia la qualità della stessa ed è sostanzialmente quello che ho fatto io. Innanzitutto quando si parla di organizzazione io devo dire che devo difendere anche i miei dipendenti perché io ho circa sette persone che lavorano H24 sul Gran Sasso che consentono di fare un lavoro di campionamento dell'acqua per garantire che la qualità dell'acqua erogata sia sempre la migliore. È inevitabile che sedimenti che sono depositati lì da non so quanto tempo con la movimentazione di questi lavori facciano aumentare la torbidità dell'acqua e questo ovviamente fa sì che se non si dà una pausa che ci consente in qualche maniera poi di recuperare questi valori per poterli erogare succede l'irreparabile ovvero sia che una città, un territorio di 50-70 mila persone viene lasciata senza acqua. Quindi pensavo semplicemente che una PEC venerdì potesse essere sufficiente per far comprendere che dopo parecchi giorni di lavoro serve necessariamente una sospensione per garantire quello che ho appena detto. Così non è stato. Ho invocato la Prefettura ovviamente l'ho invocata non perché ritengo che il Commissario stia facendo qualche torto a noi semplicemente perché ovviamente noi abbiamo questa convivenza con il Commissario come organo, come strada dei parchi e con tutti gli altri soggetti agenti, siamo in qualche maniera anche l'azienda alla testa più piccola quindi è necessario che anche gli altri enti comprendano le nostre ragioni.